carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore riempie l'universo e la grazia del signore ci fa vivere noi viviamo perché la grazia del signore ci sostiene come dice il profeta esaia signore se tu ritirassi da noi il tuo soffio vitale noi scompariremmo noi viviamo perché dio ci fa esistere noi viviamo in dio e la cosa più assurda che l'uomo si sia dimenticato di dio ai nostri giorni in particolare tanta parte dell'umanità ha posto la sua fiducia nelle risorse umane nella scienza nella tecnologia nel progresso tutte cose che hanno il loro limite ma che non possono entrare nel profondo dell'anima dell'uomo lo spirito infatti non si nutre di queste cose lo spirito si nutre di spirito santo e invochiamolo vieni spirito santo manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni da torre dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo la calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguine piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dono ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dono ai virtù e premio dono a morte santa dono a gioia eterna amen fratelli carissimi fratelli carissime tutta la grazia di dio ci è data attraverso gesù cristo figlio di dio che ha voluto prendere su di sé i peccati del mondo ha voluto sacrificare se stesse bruciare tutte le iniquità della storia non quella di una epoca o di qualche persona ma di tutta l'umanità dal primo adamo fino all'ultimo uomo e tutta la storia inficiata di colpe di disordini deve essere guarita e dio vuole che sia guarita e dio vuole liberare anche come abbiamo visto più volte la terra dall'impudicizia dalla disordine della corruzione dall'inquinamento e questo perché perché dio ci ama di amore eterno il suo piano è quello di condurre l'uomo a condividere con lui la sua gloria eterna e quindi vuole già che già fin da questa vita noi cresciamo nella sua grazia nel Vangelo di oggi noi troviamo un episodio in cui i farisei osservantissimi delle norme delle leggi delle pratiche giudaiche rimproverano Gesù perché i suoi discepoli non digiunavano come facevano loro guardate un po' fratelli se una persona riesce a capire certe cose tende a giudicare chi non le ha capite se uno riesce a fare delle belle pratiche tende a giudicare chi con le pratiche non le sa fare e questa è una tentazione che abbiamo tutti Gesù quando viene non si mette a criticare il Signore si mette ad amare per risolvere ogni problema nell'ambito dell'amore nello Spirito Santo che è amore e allora ai suoi discepoli che non digiunavano lui non impone il digiuno dice infatti non si può imporre ad un invitato a nozze di digiunare finché lo sposo è con loro ma quando lo sposo sarà tolto allora essi digiuneranno per significare adesso i miei discepoli si appoggiano su di me e godono della mia presenza gioiscono per la mia presenza e quindi non sentono quel bisogno ma quando lo sposo sarà loro tolto allora lo faranno vedete come il Signore non asservisce le persone le pratiche ma adatta le pratiche alle persone le cose sono per noi non noi per le cose e allora il giudizio che deve essere dato deve essere alla luce dello Spirito Santo San Paolo allora nella prima lettura ci ricorda che lui era criticato era giudicato e dice non giudicate nulla finché non viene il Signore perché il vostro giudizio se non è espresso alla luce della grazia di Dio alla luce dell'opera della redenzione non è corretto e non sarà mai corretto l'uomo Dio non giudica l'uomo secondo la legge ma secondo la relazione che lui ha con noi e la relazione che noi abbiamo con lui infatti Dio vuol stringere con noi una relazione nello Spirito Santo per questo ci chiama figli e l'Apostolo Paolo dice voi non siete più servo ma figli ed ereti della gloria allora tutto deve essere illuminato da questo evento dalle erizioni di Dio nella vita dell'uomo e San Paolo a suo tempo viveva con la certezza che Gesù sarebbe tornato su questa terra nell'ambito della sua vita ai Tessalonicesi dice non è detto il tempo non è fissato però viene ma con il passare del tempo il Signore diriverò che tra l'ascensione al cielo di Gesù e il suo ritorno sarebbe passato un tempo non definito e valeva l'insegnamento allora di Gesù quello di vivere in attesa del suo ritorno perché tutto ha un termine il male che c'è nel mondo, la cattiveria, gli inganni, le guerre, le violenze i sopprusi, le ingiustizie tutto questo ha un termine è segnato davanti a Dio un termine entro il quale tutto deve essere rigenerato quell'opera di Gesù compiuto sulla croce di amarci fino alla morte quell'amore deve entrare nella vita di ogni uomo deve risanare ogni coscienza per questo Gesù a Santa Faustina Kovalska annuncia che non sarebbe passato molto tempo quando lui avrebbe dato un segno avrebbe manifestato la sua presenza sulla terra e avrebbe chiamato anche ogni uomo ogni popolo a emettere una decisione con lui o contro di lui non vuole fare la guerra il Signore non concepiamo questo evento come se fosse una battaglia sanguinosa ma è una scelta di Dio di proporre all'uomo il suo amore di farglielo percepire perché il cuore dell'uomo si arrenda all'amore si lascia avvolgere dallo Spirito di Dio ed entri nella pienezza della salvezza chiediamolo al Signore questo fratelli che chiede nel Vangelo di farci trovare sempre pronti ogni giorno deve essere un momento in cui noi ci sottomettiamo con amore ricerchiamo questo amore viviamo di questo amore glorifichiamo questo amore Signore Gesù tu hai promesso di manifestare la tua gloria sulla terra oggi noi veniamo la manifestazione di tanta confusione in tutto il mondo sentiamo rumori di guerre di violenze di ingiustizie di sopprusi di inganni e tu Signore ci incoraggi a perseverare perché chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato ma tu sei la nostra salvezza perciò col salmiste vogliamo dirti Signore andiamo a dirti confida nel Signore fa il bene abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza cerca la gioia nel Signore esaudirà i desideri del tuo cuore affida al Signore la tua via confida in Lui ed egli agirà farà brillare come luce la tua giustizia il tuo diritto come il mezzogiorno sta lontano dal male e fa il bene e avrai sempre una casa perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli la salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia è loro fortezza il Signore li aiuta e li libera li libera dai malvagi e li salva perché in Lui si sono rifugiati e in Te noi ci rifugiamo Signore a Te noi affidiamo la nostra vita e Ti chiediamo fa luce in noi perché scegliamo Te ci arrendiamo a Te nell'amore nella comunione d'amore festosa e gioiosa e santa a Te gloria onore e potenza per tutti i secoli e dei secoli Amen e con Te Madre Santissima vogliamo ripetere l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore accompagnaci in questo cammino e donaci di saperci arrendere al Figlio Tuo Gesù Cristo e fin da adesso che ogni nostro pensiero ogni nostra azione sia illuminata dalla presenza di Gesù dalla Sovra Redentrice dal Suo progetto di salvezza a Lui sale con il lode e gloria per tutti i secoli dei secoli Amen